Mentre i contagi dilagano in tutta la regione Campania, quando mancano sei giorni al rientro in classe interviene il governatore De Luca. In relazione alla riapertura delle scuole sento circolare l'ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria quanto ingestibile. Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate con l'obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre. Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Prendere 20-30 giorni di respiro consentirebbe di raffreddare il picco di contagio che avrà a gennaio probabilmente un'altra spinta e di sviluppare in questi giorni la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca. Non sarebbe di certo una misura ideale ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie ed il personale scolastico. Tutte le misure messe in campo finora dal governo sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione del virus. Serve più un smart working per contribuire a rallentare la circolazione. Così invece il presidente della fondazione GIMB. Con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare a 2 milioni di positivi. Continua Nino Carta Bellotta che commentando il piano per far ripartire la scuola ha aggiunto. La scuola rappresenta un bacino di contagi. È chiaro che non avendo lavorato sugli aspetti strutturali possiamo modificare quanto vogliamo le modalità di screening e quarantena ma con questa circolazione virale così alta bisogna fare delle altre valutazioni. Se decidiamo di tenere aperte le scuole bisognerà a chiudere qualcos'altro.